Saranno 6, non più 4 le bollette che gli utenti della Ruzzoreti riceveranno nel corso di un anno. Quindi nelle case di Terramani arriveranno ogni due mesi, non più ogni tre. Questo per andare incontro alle esigenze delle famiglie e non aggravare ulteriormente sulle spese di gestione mensili, dilazionando ulteriormente il pagamento di quanto dovuto per il consumo dell'acqua. L'idea c'era da circa un anno, poi abbiamo dovuto adeguare i sistemi informativi dell'azienda, abbiamo impiegato un po' di tempo. Ci sembra un'operazione che va incontro al cittadino, avere la bolletta ogni due mesi significa avere una bolletta più bassa, quindi sostanzialmente diventa quasi come una sorta di rateizzazione del consumo. E questo permetterà appunto di incidere a meno sulle casse delle famiglie Terramani. La cosa importante è che non ci sarà un costo ulteriore per le famiglie. No, no, assolutamente no. Anzi, questa è proprio un'operazione strutturata e pensata per adeguarci anche ad altre aziende di servizio pubblico e cercare di far prevenire delle bollette meno salate sostanzialmente, non che quelle che adesso lo siano. Però il fatto che il consumo è trimestrale piuttosto che trimestrale sarà sicuramente più basso. Il nuovo sistema di pagamento scatterà dal mese di settembre, quando ai domicili verrà recapitata la bolletta relativa ai mesi di luglio e agosto 2023. Oggi il cittadino ha diverse modalità, per poter pagare a diverse modalità disposizioni, bollette più basse, ricordo l'abbassamento della tariffa del 10% in due anni, abbiamo ampliato anche l'ufficio clienti per chi volesse delle informazioni. Stiamo cercando di muoverci il più possibile a vantaggio dei cittadini. Ma con l'estate che sta finendo, la società acquedottistica Terraman ha voluto tracciare un bilancio evidenziando il fatto che non ci sono state problematiche di servizi per la carenza di acqua, nonostante la grande presenza di turisti, in particolare sulla costa. L'estate sotto il punto di vista di capitazione è stata, possiamo dire, buona, nel senso che gli investimenti fatti negli ultimi anni sul territorio fanno sì che non ci siano state criticità sotto il profilo dell'erogazione idrica, a differenza magari di altre aziende della regione Abruzzo. Siamo riusciti a garantire il servizio in maniera costante, nonostante anche nel periodo di alte temperature, anche sulla costa, nel periodo in cui le utenze si sono sostanzialmente triplicate per il turismo. C'è una certa stabilità, ripeto, questo è frutto degli investimenti fatti sia sulla rete idrica e quindi sulle riparazioni, sulla ricerca perdite, sul telecontrollo, tutta una serie di investimenti che in questi anni adesso stanno dando i loro frutti.